Allora, l'obiettivo di oggi è quello di completare la nostra panoramica sull'ereditarietà, in particolare sull'uso dell'interfaccia, che sono l'elemento fondamentale. Mentre l'ereditarietà base, ovvero una classe che estende un'altra classe, andando a aggiungere elementi o a ridefinire dei metodi, è relativamente facile da capire e ha un'utilità abbastanza chiara. L'uso delle classi, l'uso delle interfacce, per come è stato adottato in Java, è importante da capire perché ha tante diverse sfaccettature. Qui ho provato a riepilogare un po' di dettagli su come funzionano le interfacce e come vengono utilizzate. Domanda, non c'è stata nessuna lezione asincrona? No, alla fine ho deciso di non pubblicare nessuna lezione asincrona, ma di riprendere qui. Quindi vi pubblico poi una lezione di riepilogo, direi oggi, così avete tutto il materiale. Allora, il primo modo di utilizzare l'interfaccia è definire quella che si chiama un'interfaccia. Attenzione al termine interfaccia che viene spesso utilizzato in due modi diversi. Uno, l'interfaccia è quel costrutto sintattico Java introdotto alla parola chiave interface. L'interfaccia in senso più lato è l'insieme dei metodi pubblici che sono accessibili da parte di un oggetto. Quindi io posso utilizzare un'interfaccia Java per andare a definire quella che è un'interfaccia più generale, ovvero l'insieme di metodi che poi saranno implementati in vari contesti. Qui l'utilizzo è simile a quello di una classe astratta, abbiamo già visto qualche esempio. Qual è il grosso vantaggio dell'interfaccia? È che le interfacce consentono quella che è la ereditarietà multipla. Quindi un oggetto, una classe può implementare un'interfaccia, ma ne può implementare tante. E quindi non è limitato a, come nel caso delle classi, a estenderne una soltanto. Per cui in generale viene data preferenza alle interfacce e questo per dare più flessibilità a chi dovrà poi estendere, anzi implementare queste interfacce. Secondo aspetto di uso dell'interfaccia è quello che abbiamo definito un comportamento comune che poi viene utilizzato all'interno di vari algoritmi. Abbiamo visto l'esempio dell'interfaccia comparable che permette a un oggetto di essere confrontato all'interno del metodo sort. Quindi sort conta sul fatto che una certa classe implementi l'interfaccia comparable e quindi di conseguenza offre il metodo compareTo e questo consente di fare una comparazione. Vi faccio un altro esempio di questo tipo di comportamento comune. Poi andiamo avanti con gli altri. Torno su Eclipse, in cui avevamo il nostro codice. creo una nuova classe che vado a chiamare iterazione con un main. Allora, voi avete visto che all'interno di Java, oltre ai cicli che possono utilizzare un indice intero, è possibile andare a scandire gli elementi di un array. vedremo che è possibile scandire anche altri elementi utilizzando il costrutto for each. Quindi l'idea è che se io ho un array di interi, 5, 8, 13, 21, 34, eccetera. posso scrivere con la sintassi for each for int i, diciamo n, in numeri e poi andare ad esempio a stamparle. ok, quindi questo che abbiamo visto in una delle prime lezioni è il costrutto che si chiama for each. for each n in numeri, il modo in cui lo leggiamo. E' molto comodo, o sarebbe molto comodo poter utilizzare questo andando, ad esempio, ad aggiungere questa capacità di essere scanditi tramite un ciclo for each anche ad altre classi. se ricordate avevamo la lista linkata che è quella che era aperta qui un attimo fa che permette di andare a inserire degli elementi e sarebbe bello poi andarli a scandire. quindi quello che vorrei poter fare io è andare qui costruire un oggetto lista linkata l uguale new lista linkata poi andare qui a dire vabbè, facciamo, aggiungiamo qualche elemento non era aggiungi ma era aggiungi abbiamo scritto in italiano vorrei poter scrivere for n in l sostanzialmente stampa ovviamente questo di per sé non è possibile ma possiamo sfruttare una convenzione che funziona all'interno di di java in cui abbiamo la possibilità di andare a fare l'iterazione tramite degli oggetti di tipo iteratore ovvero io posso andare a costruire un oggetto iteratore che è definito in questo modo nel nel package java.util che mi permette di andare a scandire gli elementi è un'interfaccia assolutamente generale e quindi ha due metodi asnext che mi restituisce boolean mi dice se c'è un prossimo elemento su cui iterare e object che è il tipo di ritorno di next che mi dà il prossimo elemento next restituisce un tipo object perché questa interfaccia è assolutamente generica può essere applicata ovviamente a liste di interi ma anche a liste di persone o di string eccetera quindi l'idea è utilizzo un tipo di ritorno object così l'interfaccia è sempre quella e non devo andare a modificare ogni volta quindi una possibilità è quella di andare dentro la nostra lista linkata a definire scusate un'altra classe private classe iteratore che implementa iterator ovviamente l'interfaccia iterator deve essere importata e l'interfaccia iterator prevede che ci siano due metodi quelli che abbiamo visto un attimo fa che sono quelli che Eclipse mi ha aggiunto adesso ok quindi l'idea è ho un puntatore a nodo private nodo prossimo ho un prossimo elemento se prossimo è diverso da null e il prossimo elemento int value è uguale a prossimo punto valore e prossimo è uguale a prossimo punto next e restituisco sostanzialmente un integer punto value of del mio valore quindi l'idea che io posso utilizzare per andare a fare una scansione il metodo is next e il metodo next all'interno di un ciclo finché ho esaurito tutto ovviamente devo andare a costruire un un oggetto iteratore qui posso mettere un iteratore costruttore 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 che sostanzialmente mi dice prossimo uguale a testa ok perché può succedere a testa perché questa è una classe interna e quindi è legata all'oggetto che la contiene l'oggetto di classe lista linkata ok la classe è privata però quello che posso fare io è un public iterator quindi l'interfaccia et e questo mi fa un ritorno di new iteratore ok quindi a questo punto tornando alla mia iterazione non posso ancora scrivere scusatemi ho il mouse che funziona in ogni maniera ideale quindi questo non lo posso ancora scrivere però quello che posso fare è andare a costruire un iterator et uguale l.it iterator ovviamente deve essere importato ecco vi faccio notare questo dettaglio quando mi sono posizionato su iterator ovviamente mi è uscito questo pop up che mi dà le possibili soluzioni al problema del fatto che iterator can't be resolved nel senso che la classe iterator non è definita almeno in questo package tra le opzioni mi vengono forniti due possibili import uno di una classe iterator che si trova che si trova in java che si trova in javax swing text html document e un altro che si trova in java.util ecco in questo caso noi stiamo facendo riferimento alla seconda opzione quello che si trova in java.util l'altro è un qualcosa che non vedremo neanche in questo corso quindi in generale attenzione quando eclipse vi fornisce dei suggerimenti perché non sempre il primo suggerimento è quello corretto ok quindi sono molto comodi però non vi esimono da ragionare e capire qual è il suggerimento il grosso vantaggio è che io con un click mi faccio aggiungere l'import che vedete lassù in cima e quindi ho risolto il problema ok però devo andare a scegliere l'opzione giusta a questo punto quello che posso fare è fare un while it.snext quindi mentre ci sono elementi su cui iterare vado a dire int t uguale a integer di it punto next cosa succede? next mi restituisce un oggetto di tipo un riferimento di tipo object io faccio il cast a integer e poi lo assegno a un int e qui sostanzialmente viene fatto un unboxing automatico ok? quando io assegno un integer a un int viene fatto un unboxing automatico quindi il cast mi permette di fare poi l'unboxing ovviamente io non mi avrei potuto scrivere int v uguale a it.next perché it.next è un object e di là ho un int quindi non c'è una conversione automatica mentre invece se io metto il cast dico al compilatore guarda che l'oggetto che mi viene passato di fatto punta un integer quindi converti il tipo del riferimento ok? l'oggetto resta sempre quello ricordiamoci che quando facciamo un cast gli oggetti non cambiano una volta che ho l'integer cosa faccio? posso fare la conversione int domanda al posto di integer non si può mettere int no non si può mettere int perché int è un tipo primitivo e ovviamente non c'è il cast da un oggetto a un tipo primitivo ok? quindi qui ho un doppio passaggio quindi in realtà quello che posso fare qui è sostanzialmente questa cosa qui scusatemi equivale a dire integer valore temporaneo ok? e qui non faccio nulla nel senso che faccio semplicemente un cast cambio il tipo di di riferimento quindi il cast cambia il tipo di riferimento l'oggetto non cambia nulla e poi faccio v uguale a tmp punto int value questo è quello che possiamo chiamare unboxing scusatemi e questo qui è invece un semplice cast da un cast faccio un downcast e poi faccio l'unboxing io l'ho scritto quassù in un colpo solo il compilatore sostanzialmente me l'ha generato in questo modo ok? ok altre domande domanda 1 di Lorenzo perché si riesce a chiamare iterator in realtà esnext e next che sono i metodi di iterator se la classe è privata perché sostanzialmente è privata la classe ma l'oggetto io lo posso vedere l'unica cosa che per me importa è che la classe che abbiamo definito qua dentro dentro lista linkata c'è questa adesso vi ve la ripropongo qua centrata questa classe sebbene privata implementa iterator e iterator è un'interfaccia pubblica e io nel main di prova che abbiamo scritto sto utilizzando un riferimento di tipo iterator quindi il fatto che la classe di quell'oggetto puntato dal riferimento di tipo iterator sia privata non mi impedisce di chiamare i metodi di iterator perché quei metodi sono pubblici quello che non potrò mai fare è andare a chiamare eventuali altri metodi che si sono qua dentro perché non sono visibili e non posso neanche andare a creare un oggetto di questo tipo all'esterno di questa classe perché la classe in sé è privata ma l'oggetto se riesco a vederlo attraverso un riferimento di un tipo che io conosco pubblico con metodi pubblici come l'interfaccia iterator posso tranquillamente farlo potrebbe avere senso chiamare iteratore se lo mettessi pubblico potrei anche metterlo pubblico l'idea è che io l'ho messo privato perché nessuno andrà a creare un'istanza di questa classe al di fuori della della classe questa qua lista linkata in cui ci troviamo ok quello è un iteratore specifico per questa classe quindi l'idea è lo nascondo il più possibile in modo che non vada a interferire con altri metodi con altre classi che stanno all'esterno allora scusate che allungo ok l'entrata domanda è come viene dichiarato l'iteratore pubblico privato direi che l'abbiamo visto e vi ho spiegato che in realtà il fatto che la classe sia privata vuol dire che io non riesco a vedere la classe in sé quindi non riesco a crearla non riesco a chiamare avventare i suoi metodi ma se vedo l'oggetto di quella classe attraverso un'interfaccia ecco tranquillamente riesco a chiamare questi metodi domanda questo metodo qui next che restituisce un object fa automaticamente un upcast esattamente da integer che è il risultato di questo integer value of a object ok gli upcast come abbiamo visto sono sempre correttamente fatti se sono anche se sono impliciti quindi quindi questo è un upcast implicito altra domanda avremmo potuto stampare direttamente con it.next.to string sì giusto questa è un'altra possibilità torno qua quindi ok scusatemi io qui ho fatto la conversione integer se avessi semplicemente voluto stamparlo avrei potuto fare un invece di quello che abbiamo qui sopra system punto out punto println it.next in realtà non devo neanche fare il to string perché il to string viene chiamato automaticamente all'interno di println ok quindi invece di fare questo potrei fare questa operazione qui sotto l'ho convertito perché in realtà nel nostro esempio se voglio stamparlo va benissimo più in generale se io voglio andare a estrarre elementi da una lista magari li voglio utilizzare per quello che sono effettivamente ok dipende un po' dai contesti domanda it non dovrebbe essere un'istanza di iteratore che è una classe in un iterator sì in effetti it punta a quello che viene gestito da questo metodo it che mi salto alla definizione it restituisce un new iteratore ok quindi l'iteratore sostanzialmente è la classe vera di quell'oggetto quello che io faccio qui quello che io faccio qui è di utilizzare l'interfaccia iterator che è generale per fare una scansione l'idea è che l'oggetto è di tipo iteratore ma lo guardo attraverso un'interfaccia di tipo iterator ovvero un riferimento di tipo iterator che mi dà accesso a quei due metodi che sono snext e poi next domanda l'unboxing ha bisogno per forza di int value no non ha bisogno di int value non devo scriverlo esplicitamente ma di fatto è quello che viene chiamato dal compilatore quindi io posso non scriverlo ma implicitamente il compilatore mi fa una chiamata a int value per fare l'unboxing lì vi ho sostanzialmente descritto in maniera più estesa nel dettaglio senza lasciare niente implicito quello che viene fatto dall'unboxing che c'è sopra domanda perché iterato it uguale da un errore non saprei verifica di aver importato l'iteratore altra domanda era possibile fare in modo che lista linkata implementasse direttamente iterato senza senza dover definire una classe aggiuntiva allora da un punto di vista sintattico sì da un punto di vista di funzionamento degli iteratori no sarebbe un errore perché l'idea è che io voglio avere un iteratore che sia sganciato dal dal contenitore su cui faccio l'iterazione perché perché sostanzialmente immaginate cosa come potrei fare a fare un'iterazione che mi stampi tutte le possibili coppie di elementi che stanno dentro un contenitore se io se io ho la classe l che implementa iteratore ho una possibile iterazione per volta nel senso che ogni volta che chiamo next passo a quello successivo se invece voglio fare due iterazioni anidate ho bisogno di due iteratori completamente distinti quindi l'idea è ho un oggetto esterno l'iteratore che tiene traccia della posizione un po' come quando voi fate due cicli anidati su un array utilizzate due indici diversi i e j tanto per darvi due esempi tipici usate due indici diversi perché le due posizioni devono essere assolutamente indipendenti avere il contenitore lista che implementa iteratore vuol dire mettere dentro la lista un indice il che vuol dire che io ho un'iterazione sola possibile non posso fare più interazioni separate ok quindi questo è l'idea generale dell'iteratore a questo punto sarebbe bello che il compilatore mi prendesse questo che è una struttura tipica e me lo generasse in maniera automatica in effetti questo può essere fatto grazie a un'altra interfaccia che si chiama iterable eccola qua eccola qua questa è la definizione di iterable vedete è un'interfaccia che ha un unico metodo che si chiama iterator che restituisce un iteratore ok a questo punto come posso utilizzarla posso andare a dire che la lista questa volta implementa l'interfaccia iterable a questo punto se la mia lista questa lista linkata implementa l'interfaccia bene abbiamo già implementato un po' la volta scorsa ma iterable ovviamente devo aggiungere il metodo che manca che mi è stato aggiunto qua giù in fondo iterator è praticamente uguale al nostro it di prima ok ve li metto di fianco perché in realtà l'ho chiamato it giusto per evitare confusione ok fa esattamente la stessa cosa solo che non è un nome che ho inventato io ma è un nome di metodo che corrisponde a quello dell'interfaccia ok quindi chiamando iterator sono sicuro di ottenere un iteratore a questo punto posso utilizzare l'iteratore per andare a fare la scansione di più se la mia classe l implementa iterable io posso andare a scrivere un for object elemento in l la lista e poi fare un una cosa di questo tipo se voglio semplicemente stamparlo quindi system out non it.next ma bensì il mio elemento oppure se voglio andare a recuperare il valore posso andare a dire int v uguale cast integer di elemento ok quindi se io vado ad eseguire questo vedete che ho la stampa del primo array di interi e poi ho la stampa con l'iteratore questa e con il for each che è questa che vediamo qui in basso allora un paio di domande Alessandro qual è il vantaggio di utilizzare iterator invece di due semplici metodi getter per il next e il valore allora sostanzialmente la differenza è che in questo modo io posso sicuramente prendere il primo elemento e poi next 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 il problema è che a questo punto esattamente come la domanda di prima potrei implementare l'interfaccia iteratore direttamente dalla lista il problema è che a questo punto ho un'unica iterazione per volta non posso fare ad esempio due iterazioni separate annidate o meno in questo modo l'indice l'indice è un pochettino evoluto che è rappresentato dall'iteratore è un qualcosa di separato e quindi lo posso utilizzare nel modo più flessibile possibile l'altra domanda lo scopo di iterable è poter utilizzare il for each sì il for each se ho un oggetto che mi implementa iterable automaticamente posso utilizzare il for each ok oppure posso scrivere io un un metodo che utilizza esplicitamente gli iteratori sapendo che una volta che un contenitore implementa iterable sicuramente posso accedere agli iteratori torno qui su su il metodo iterator che semplicemente costruisce un nuovo iteratore ok esattamente uguale all'it di prima semplicemente ha il nome iterator che è quello definito dall'interfaccia iterable domanda allora altra domanda qui allora in questa stampa qui la riga con il cast non serve assolutamente nulla ok era per indicarvi come potrei fare un qualcosa di analogo a quello che avevo scritto prima ovviamente per stampare non mi serve di fare il cast perché tanto il metodo toString è implementato dappertutto ok va comunque implementato l'iteratore allora se io ho un contenitore la lista che implementa iterable devo comunque avere un'altra classe che implementa l'iteratore questo sicuramente domanda quindi for each lavora su oggetti tipo iterable sì in generale sì può lavorare sia su oggetti tipo iterable che su array ora le classi le classi di array non implementano esplicitamente iterable ma è diciamo come se ok io avendo la mia lista di numeri non posso dire iterable i uguale a crust iterable di numeri ok perché il tipo array di interi non è un iterable ok ma il compilatore li tratta come se l'idea è che iterable mi permette di andare a fare utilizzare il costrutto for each su qualunque oggetto contenitore che contenga degli elementi domanda se la lista iterable implementa allora se la classe lista linkata implementa iterable noi dobbiamo fare l'override del metodo interno ovviamente perché se implementano l'interfaccia dobbiamo fare l'implementazione l'override dei metodi iterator devo fare comunque devo andare ad avere un oggetto di tipo iterator quindi devo per poter implementare correttamente iterable andare a creare una classe di tipo iterator altrimenti non ho non riesco a gestire l'iterazione la classe annidata è comunque sempre necessaria io qui l'ho messa come classe esplicita potrebbe anche essere una classe anonima però di fatto devo andare a creare una classe che implementi l'iteratore per quello specifico contenitore ok perfetto quindi qui abbiamo visto un altro caso in cui non un algoritmo ma addirittura un costrutto del linguaggio richiede che una classe implementi un'interfaccia in modo da garantire un certo tipo di comportamento il tipo di comportamento in questo caso specifico era quello di essere iterabile in questo modo tutti gli elementi che stanno lì dentro mi consentono di andare a prendere un nuovo elemento tenete presente che allora normalmente iterable è utilizzato per andare a scandire gli elementi che stanno in una collezione non è detto che gli elementi siano effettivamente presenti nella collezione magari li calcolo di volta in volta potrei avere un iterable per andare a diciamo calcolare ad esempio i numeri della lista di Fibonacci esempio mettiamo una stati classe Fibonacci implements iterable ovviamente aggiungiamo i metodi non implementati e qui vado a fare un return di new iterator aperta chiusa con i due metodi as next e next ok ovviamente questo iterator avrà int a e b int a uguale a 1 int b uguale a 1 as next potrebbe restituirmi sempre true ok la lista di Fibonacci è senza fine e qui posso andare a dire che c è uguale ad a b scusate int c è uguale ad a più b integer risalto uguale a integer punto value of di a poi dico che a è uguale a b e b è uguale a c e faccio un return di result quindi a questo punto ho i miei interi e qui posso andare a fare un for object f in abbiamo un oggetto Fibonacci prima f in fib system out print ln f se io lo lancio vedete che a un certo punto ho dei numeri che non hanno molto più senso ed è quassù fermo tutto perché ovviamente quando ho delle somme tra interi che superano la capacità del del mio del mio numero il risultato è che vado in overflow e quindi ho dei numeri negativi ovviamente qui me la stampate all'infinito domanda perché ho fatto a uguale a b e b uguale a c perché sostanzialmente a è l'elemento che restituisco il prossimo elemento diventerà b e b diventa c che è la somma dei due precedenti quindi sostanzialmente qui calcolo c è il prossimo elemento che è la somma dei due precedenti quindi calcolo sostanzialmente quella che è la serie di Fibonacci invece di fare qui uguale a true potrei andare a dire return a maggiore di zero nel senso che quando va in overflow va in negativo quindi se in questo caso si è fermato perché è andato in overflow i numeri sono questi quindi abbiamo da qui in avanti 1 1 2 3 5 8 13 eccetera e qui abbiamo tutti i numeri della serie di Fibonacci che ci stanno in un intero ovviamente allora prima domanda quindi abbiamo definito iterator come una classe interna anonima? sì infatti vedete che qui ho fatto new iterator quindi non posso fare new di un'interfaccia a meno che non vada a fornire come ho fatto qui sotto l'implementazione di quell'interfaccia quindi questa è ovviamente una classe interna anonima in generale gli iteratori sono delle cose molto molto semplici quindi se dobbiamo implementarli vedete che con poche righe io l'ho fatto quindi è pratica normale andare a implementare delle classi così semplici come classi anonime quindi sì domanda se snext restituisce false il for each finisce sì sostanzialmente sì l'idea allora io qui non l'ho implementato ma l'idea è che se io chiamo next dopo che snext ha restituito false mi viene generato un'eccezione nel senso che snext mi dice posso chiamare next perché c'è un allenamento successivo se la risposta è sì e quindi snext restituisce true posso andare avanti altrimenti ho un errore domanda se avessi fatto con una lista linkata sì sì avrei potuto costruire una lista linkata andando a prenderli quelli che stanno prima sì il vantaggio di questa soluzione qua con l'iteratore è che io in realtà la lista la serie di Fibonacci non lo sto implementando cioè non la memorizzo da nessuna parte nel senso che man mano che vado avanti con l'iteratore calcolo l'elemente successivo o i due elementi precedenti a e b e calcolo quello successivo e vado avanti di questo passo altro esempio potrei utilizzare questo per andare a costruire per andare a generare dei numeri casuali ok quindi quando il next invece di andare a generarmi calcolarmi il prossimo numero della serie di Fibonacci potrei gestituire un numero casuale ok un po' di esempi di uso di questa di questa interfaccia per cui in un ciclo for meglio con la sintassi for each posso andare a scandire qualunque cosa potrei andare a leggere dei dei dati da un file potrei andare a leggere dei dati che arrivano da una connessione internet ok quello che voglio la sintassi è quella ho un iterable che ha il compito di costruirmi un iteratore e poi una volta che ho l'iteratore o uso i metodi next esplicitamente oppure li metto dentro un ciclo for each e implicitamente vengono utilizzati dal nostro compilatore quindi il compilatore che chiama qui due metodi di nascosto dentro il ciclo for each ok per cui di solito la scansione su un una collezione un contenitore viene fatta ad esempio con un ciclo for each l'uso esplicito degli iteratori è un qualcosa che non viene quasi mai fatto nel senso che è scomodo andare a mettere il ciclo for il ciclo while la conversione dentro è molto più veloce andare a scrivere for elemento in e questo mi consente di andare a fare un'operazione di di iterazione ok perché qui ho utilizzato una classe interna anonima invece di utilizzare quella notazione compatta che vi ho fatto vedere la volta scorsa che si chiama lambda function ha più di un metodo ok perfetto ok quindi il limite fondamentale delle lambda function è proprio quello se ho un metodo solo vanno benissimo e sono compatte se ho più metodi ecco a questo punto mi danno qualche piccolo problemino ok nel senso che non li posso utilizzare a questo punto torno un attimo a quella che era l'elenco delle nostre possibilità non trovo più la allora qui erano interfacce quindi abbiamo visto quello che è il common behavior l'altro elemento successivo di possibile uso tipico in Java allora quelli che vediamo adesso il nostro comparable iterable iterator eccetera sono tutti usi tipici quindi questi sono quelli probabilmente più noti ma questo tipo di struttura è utilizzato tantissimo all'interno di Java quindi memorizzate bene il tipo di struttura perché lo ritroverete probabilmente in tanti casi all'interno di Java di programmi Java un altro caso particolare caso tipico è quello che io ho chiamato qui behavioral parametrization ovvero quello di passare un oggetto che è un oggetto di tipo comportamentale nel senso che non contiene dati ma esclusivamente quello che è un codice delle operazioni molto spesso questi oggetti di tipo comportamentali sono oggetti funzionali ovvero hanno un unico metodo che dipende non da altri parametri ma dipende esclusivamente da quelli che sono i valori passati al metodo stesso l'esempio tipico che abbiamo visto la volta scorsa è sostanzialmente quello del comparatore quindi il comparatore mi permette di andare a definire il comportamento dell'algoritmo di ordinamento e questo comportamento è descritto da questo oggetto che mi dice come fare i confronti ok l'aspetto interessante quando ho degli oggetti di tipo comportamentale è che li posso andare a costruire in maniera molto molto facile utilizzando quelle che sono delle interfacce funzionali e quindi posso andare a utilizzare i metodi tipo lambda function ok quindi a sintassi tipo lambda function cosa vuol dire allora vi riprendo l'esempio qua dell'ordinamento ok avevamo i vari comparatori quindi io vi recupero sostanzialmente questo array qua di persona ok ve lo copio in una nuova classe così è un po' più facile da capire quindi abbiamo una nuova classe che chiamo esempi funzionali con un metodo main e qui vi riporto sostanzialmente questo elenco di persone che poi andiamo a ordinare ok utilizziamo l'ordinamento perché è quello più facile sappiamo tutti come funziona tuttavia è abbastanza sufficientemente complicato da garantirmi tante possibili varianti ok se ricordate la classe persona ve la vado ad aprire qui implementava anche comparable ok quindi aveva messo comparable con un ordinamento per cognome che sostanzialmente per cognome e nome e questo è il modo standard di fare l'ordinamento ok è quello che di solito viene chiamato ordinamento naturale per cui se io faccio un arrays punto sort di persone quello che ottengo è di fare un ordinamento secondo quello che è è l'ordine naturale un altro modo per andare a fare l'ordinamento inverso è sostanzialmente quello di andare a costruirmi un comparatore che sia in grado di farmi il confronto ok quindi lo posso scrivere in maniera esplicita quindi posso andare a fare una arrays punto sort persone e poi qui vado a mettere sostanzialmente un a b e qui vado a restituire che cosa allora scusatemi qui obgett a e obgett v quindi restiamo sul ho i due parametri quindi p1 è uguale cast a persona di a e scusate persona p2 cast a persona di b int confronto cognomi uguale a p1 punto cognome punto compare to p2 punto cognome if c è diverso da zero allora return meno cc ok vi hanno detto che lo facciamo al contrario altrimenti return p1 punto nome compare to p2 punto nome con un meno davanti ok tanto per andare a vedere che sia tutto corretto stampiamo un un array punto to string di persone qui e poi lo stampiamo anche qui sotto dopo l'altro ordinamento domanda cc è sbagliato la metodo boolean visto che facciamo un confronto beh attenzione noi non facciamo un equals il confronto può essere più grande più piccolo o uguale quindi il compare to di fatto il metodo compare to che io sto utilizzando qui è il compare to tra le stringhe e come tutti i metodi compare to definiti all'interno dell'interfaccia comparable restituisce un valore intero quindi oltre a non essere corretto perché il confronto può essere nelle due direzioni è sinteticamente sbagliato perché compare to restituisce un intero in quanto il metodo sort si aspetta che l'ordinamento venga fatto su con quella solita convenzione minore di zero uguale a zero maggiore di zero quindi a questo punto se io eseguo questo codice ok c'è un file da salvare avete da bianchi a verdi riduco un po' la finestra così vediamo il codice e da verdi a bianchi ma io posso fare anche un'altra cosa molto interessante posso andare a costruire se utilizziamo questo sort allora se utilizziamo il primo sort deve per forza utilizzare l'ordinamento naturale sì quindi deve implementare comparable per questo secondo sort non necessariamente nel senso che l'ordinamento lo faccio io esplicitamente quello che a questo punto vi propongo è e se noi definissimo un metodo che costruisce un oggetto comparatore che fa il confronto inverso a quello naturale come possiamo farlo possiamo andare a dire voglio un comparatore diciamo diciamo così decrescente il comparatore decrescente che cosa fa è un comparatore che prende due oggetti li confronta quindi immaginando che ci sia già un ordinamento naturale li confronta e poi fa il contrario ok allora compareto scusate qui è da importare da java.util quello che posso fare è fare un return di object a object b quindi ho due oggetti e restituisco sostanzialmente cast comparable di a quindi comparable c a uguale comparable di a e poi return meno a punto compare to b scusate non ama c a ok allora intanto rispondo alla domanda l'ultima domanda in chat perché a e b sono degli object non direttamente delle persone potranno essere delle persone se utilizziamo i tipi generici di cui non abbiamo ancora parlato sono degli oggetti perché l'interfaccia che io sto implementando qua è l'interfaccia compareto l'interfaccia compareto ha sostanzialmente un metodo che si chiama compare che prende due oggetti quindi i parametri del metodo compare sono degli oggetti il cast a comparable qui è necessario perché il metodo compareto non è definito dentro object ma è definito dentro comparable quindi devo andare a considerarlo come un oggetto comparable altrimenti non potrei chiamare il metodo compareto non è necessario fare il cast anche di b perché il metodo compareto se ricordate è un metodo che riceve come parametro un object e non un altro comparable e quindi sono sono un po' complicati quindi sostanzialmente l'interfaccia allora vi faccio interface compareto allora vi metto un underscore così non andiamo a sovrascrivere l'altra l'altra interfaccia quindi l'interfaccia compareto quella originale definita come un int compare object a virgola object b ok interfaccia comparable è un int compare to object o quindi queste sono le due interfacce ve l'ho messe con l'underscore così evitiamo di interferire con gli altri ok e qui vado a mettere un punto in virgola allora l'ultima domanda perché quando abbiamo definito la lambda qui il compilatore non ci ha chiesto di importare compareto mentre invece quando l'abbiamo messo qua ce l'ha chiesto perché sostanzialmente qui il compilatore nel primo caso della lambda il compilatore ha fatto lui automaticamente tutte le sue verifiche senza bisogno di avere interfaccia quindi noi non abbiamo scritto esplicitamente compareto l'ha fatto lui di nascosto nel secondo caso noi invece abbiamo scritto chiaramente compareto e quindi la regola è che in questo caso deve essere importato si poteva fare in tutti i due i casi o mettere in tutti i due i casi in teoria la sintassi java invece mi pretende che sia importato se utilizzo un nome esplicitamente nell'altro caso invece mi consente di non importarlo e quindi una semplificazione delle lambda che mi consente di non mettere tanti import quando io non scrivo esplicitamente il nome della classe a questo punto che cosa fa questo metodo decrescente mi crea un nuovo oggetto che implementa l'interfaccia compareto la cui implementazione sostanzialmente è quella di andare a fare il confronto tra i due oggetti A e B usando l'ordinamento naturale e cambiare di segno quindi fare l'ordinamento inverso e quindi sostanzialmente invece di scrivere tutta questa pappardella qui se io ho questo metodo pronto quello che posso fare è dire arrays punto sort persone virgola decrescente e ovviamente se stampo dovrai ottenere il risultato ok quindi da verdi a bianchi come esattamente come nel caso precedente ok se volete un passaggio intermedio è quello in cui io vado a prendere persone e poi vado sostanzialmente a scrivere qui il codice che avevo messo là sopra ok quindi primo caso quello che vediamo qua su ok scrivo esplicitamente il confronto inverso ok qui uso l'ordinamento naturale e lo inverto e qui uso il metodo decrescente per fare l'ordinamento naturale inverso e quindi non me lo devo scrivere tutte le volte uso il metodo e ce l'ho già pronto ok in effetti un metodo così è potenzialmente molto utile per cui esiste già un metodo fatto in quel modo dentro compareto che si chiama reverse order quindi il metodo reverse order dentro la classe compareto fa esattamente questa cosa ok quindi io ve l'ho scritto per farvi vedere come è fatto però questa cosa qua è uguale compareto punto reverse order domanda però ho bisogno che sia implementato il compareto per far funzionare il reverse order certo sì nel senso che posso fare un ordinamento naturale inverso soltanto se esiste un ordinamento naturale passo successivo sarebbe bello poter andare a costruire in maniera così diciamo dinamica dei comparatori che fanno il confronto in base a un metodo qualunque ad esempio un metodo getter che restituisce una stringa mi piacerebbe poter scrivere qualcosa del tipo arrays punto sort persone virgola in base a get cognome cognome non personas dove get cognome ragionevolmente dovrebbe essere un metodo di persona che adesso non vedo allora vado a prendervi la classe persona allora qui abbiamo i ordinamenti quindi questo era ordinamento persona che era quindi qui allora faccio che copiare la classe che avevamo già messo di là in questi nostri esercizi così ce l'abbiamo sott'occhio più facilmente e qui string get nome return domanda quindi se in un stesso programma vi ho una registra di frondonamento crescente decrescente posso utilizzare due metodi di questo tipo sì senza dover implementare nulla esattamente come arriviamo a questo codice domanda come mai non vanno in conflitto perché in realtà vanno in conflitto l'altra non è utilizzata quindi cancello questa così evitiamo ok in realtà l'altra classe era sovrascritta da questa sovrascritta nascosta nel senso che era visibile quella interna e quella esterna pur essendoci non era era sostanzialmente mascherata da quella interna ok quindi il mio obiettivo è riuscire a scrivere qualcosa di questo tipo in modo da dire vabbè faccio un ordinamento in base a che cosa a una stringa che è data da quel cognome da quel metodo che restituisce il cognome ok come arrivo qui beh lo posso fare con delle lambda function oppure vediamo tra poco con un'altra notazione analoga o comunque legata alla lambda function che si chiama method reference ok prima di arrivare a ragionare su questo però direi che è arrivata l'ora di fare una pausa riepiloghiamo brevemente cosa abbiamo fatto prima allora abbiamo detto che se vogliamo andare a prendere un ordinamento inverso rispetto a quello naturale un modo di farlo è quello che vediamo qua ok quindi prendiamo un array sort l'array persone che vogliamo andare a ordinare e poi in questo caso ho utilizzato una lambda per andare a costruire un comparatore che di fatto prende gli oggetti a e b converte a in un comparable per poter chiamare compare to e quindi fa ca.comper to b quindi ottiene il confronto utilizzando l'ordine naturale quello del compare to e poi mette un meno davanti in modo che sostanzialmente l'ordinamento sia quello inverso a quello naturale se io dovesse andare ogni volta a fare un'operazione di questo tipo potrebbe risultare complesso quindi un modo diciamo così standard di andare a fare quello è invece di riscrivere ogni volta questo tipo di confronto vado a definire questo metodo decrescente che crea un oggetto che è esattamente identico a questo se volete vedere quello che ho scritto qui quello che fa il nostro metodo è restituire sostanzialmente il comparatore che noi abbiamo utilizzato qua questo ci consente sostanzialmente di scrivere in maniera molto più compatta un persone punto decrescente in modo che sia tutto molto più compatto ok però decrescente semplicemente non fa che restituirmi il comparatore che io avevo scritto qua ok quindi il decrescente è un pochettino più compatto allora in maniera del tutto analoga avremmo potuto andare a dire altra possibilità mettere un comparatore lo chiamiamo decrescente uguale e ci metto questa cosa qua e poi scrivo array sort e qui non metto decrescente ma metto decr ok di nuovo assolutamente analogo vi ho fatto vedere il metodo decrescente perché questo è un approccio che viene utilizzato normalmente in questo caso anche in altri casi infatti dentro l'interfaccia comparetor esiste questo metodo statico che si chiama reverse order che è esattamente identico a quello decrescente che abbiamo scritto noi ok poteva esserci un attributo statico dentro comparetor che si chiamava reverse order con esattamente la stessa definizione e avrebbe avuto lo stesso significato allora c'è una domanda intermedia le classi comparetor e comparetor to underscore che abbiamo scritto qui sopra non l'abbiamo utilizzato da nessuna parte ma ve l'ho messa per farvi vedere come sono scritte le classi analoghe senza l'andraskor ok era farvi vedere quali erano i metodi domanda non potremmo restituire una classe anonima sì ma in effetti la lambda restituisce una classe anonima quindi semplicemente è una versione un po' più compatta di una classe anonima domanda successiva come mai reverse order non ha bisogno del comparatore originale passato come parametro perché sostanzialmente il comparatore originale cioè quello originale non è un comparatore ok quello originale è l'ordinamento naturale vi faccio un altro prima di tornare a quello che vi avevo lanciato come ipotesi prima della pausa immaginiamo di avere un comparatore lunghezza cognome uguale a ve lo scrivo come lambda ma potrei scriverlo come classe anonima uso una lambda perché è semplicemente più compatta vado a mettere persona più uno uguale cast a persona di A poi persona P2 cast a persona di B e poi vado a restituire sostanzialmente P1 punto cognome punto length meno P2 punto cognome punto length ok praticamente questo ordina per lunghezza del cognome ok vi torna potete provare a scriverlo come classe anonima come classe esterna usare una lambda è semplicemente un pochettino più compatto a questo punto posso fare il solito arrays punto sort persone virgola lunghezza cognome e poi posso stampare il tutto a questo punto vedete neri è il primo poi c'è verdi e l'ultimo è bianchi che è il più lungo come cognome un'altra cosa che potrei fare è dire va bene se vogliamo fare l'inverso come funziona beh in questo caso potrei andare a mettere uno static comparator inverso a questo punto però prendiamo un comparator diciamo diritto rovescio ok e qui faccio un return di object a object b freccia meno diritto punto compare a e b oppure in maniera del tutto analoga non metto il meno e semplicemente chiamo compare di b e a quindi gli scambio invece di di inverterli a questo punto posso andare a fare un ordinamento non con lunghezza cognome ma al rovescio di lunghezza cognome in questo caso ho bisogno del parametro che è il comparatore di partenza semplicemente lo inverto ok quindi se eseguo questo eccolo qua vedete che vado da neri a bianchi in un caso e da bianchi a neri nell'altro domanda si potrebbe utilizzare reverse order no reverse order è come decrescente nel senso che parte dall'ordinamento naturale si potrebbe utilizzare lo scrivo qua non rovescio ma bensì compare tol punto no scusate non è un metodo statico ma è un metodo di default che si chiama reversed ok il metodo reversed è un metodo di default quindi è già un metodo della classe dell'interfaccia compare che semplicemente mi fa un funzionamento analogo a quello di di rovescio sostanzialmente se andate a vedere l'implementazione di reverse sostanzialmente fa un return di meno this punto compare però sostanzialmente di nuovo questo è definito dentro l'interfaccia compare e quindi abbiamo già tutto ok quindi l'idea di base è cerchiamo di scrivere delle cose molto compatte che magari utilizzano dei metodi standard in maniera molto sintetica invece di andare a sbrodolare tutto il codice per fare il confronto allora compare to reverse o reverse order sono metodi che sono definiti dentro l'interfaccia compare to quindi sostanzialmente noi utilizzeremo quelli non quelli che ho implementato io ok quelli che ho implementato io sono sostanzialmente identici li ho scritti per farvi capire qual è il funzionamento di base ok e per farvi capire come potete andare a fare delle cose analoghe anche utilizzando altre interfacce potremmo potremmo andare a vedere il codice sorgente di comparator e vedere sostanzialmente le stesse cose ragionevolmente se voi avrete bisogno di fare un ordinamento inverso di un comparatore che già esiste piuttosto che l'ordinamento inverso dell'ordinamento naturale potete utilizzare tranquillamente quindi se io ho una lunghezza quindi il mio comparatore è scritto così posso scrivere reverse e ho risolto il problema perché questo è un metodo già definito in comparator tornando a quello che era la nostra challenge prima della della pausa mi piacerebbe scrivere qualcosa di questo tipo in modo da andare a recuperare un ordinamento in base a un elemento senza dover andare a scrivere esplicitamente il confronto ok come funziona come possiamo andare a costruire questa cosa poi vediamo che ci sono dei metodi dentro comparator che fanno già tutto però volevo farvi vedere i meccanismi e come posso sfruttare le lambda le interfacce funzionali per fare queste cose allora in base a esattamente come il nostro rovescio o come decrescente è un metodo che deve restituire un comparatore ok quindi static comparator in base a e qui mi restituisce un qualcosa che cos'è il nostro get cognome è sostanzialmente un chiamiamolo così estrattore ovvero un oggetto che estrae un qualcosa che estrae il cognome da la nostra persona e poi successivamente vado a fare il confronto il punto è di che tipo è questo estrattore sarà di un tipo ve lo scrivo qua estrattore stringa ok ovvero un qualcosa che ha un metodo che si chiama estrai che restituisce una stringa dato ci siamo generici e andiamo a mettere un oggetto o e quindi il parametro che noi abbiamo qui è un estrattore di stringa a questo punto se abbiamo il nostro estrattore di stringa possiamo andare a scrivere il nostro comparatore come object a dire object b sempre la solita storia non cambio di molto il nostro metodo compare che è quello che stiamo implementando con quella lambda cosa dovrà fare dovrà fare un return di scusate estrattore punto estrai da quindi dall'oggetto a una stringa punto compare to facciamo un confronto tra stringhe quindi l'estrattore cosa fa è un oggetto che ha questo metodo a cui passiamo un oggetto e ci restituisce una stringa a questo punto avendo le due stringhe che corrispondono ai due oggetti facciamo il confronto quindi estrattore punto estrai da b quindi in base a ha bisogno che questo get cognome sia sostanzialmente un estrattore ovvero un qualcosa che data dato un oggetto mi restituisca la stringa presa da questo oggetto in base a cui fare l'ordinamento quindi posso dire estrattore stringa get cognome è uguale a qui di nuovo potrei mettere una classe anonima però vedete che questa è un'interfaccia funzionale quindi sostanzialmente ho il mio oggetto qui faccio un cast da persona e su che su cui chiamo il metodo get cognome ok quindi ripilogando cosa faccio parto da questo oggetto estrattore che data una persona mi restituisce il suo cognome sfrutto questo metodo in base a ok che te lo scrivo qua come commento costruisce un comparatore sulla base delle stringhe estratte dall'estrattore quindi questo è un estrattore di stringhe e questo restituisce sostanzialmente comparatore sulla base delle stringhe estratte quindi cosa succede uso l'estrattore per estrarre la stringa 1 allora fatemelo scrivere qui ve l'ho scritto in maniera compatta lo possiamo scrivere anche in maniera un po' più estesa ok quindi ho una stringa che è a diciamo così str estratta da che è uguale a estrattore punto estrai da a poi ho la stringa che è estratta dall'oggetto b che quindi è estrattore punto estrai da b e poi faccio un return di str estratto da punto compare to str estratto da b quindi sostanzialmente l'idea è il comparatore che in base a mi costruisce usa l'estrattore per estrarre una stringa da a e da b e poi fa il compare to tra le due stringhe che sono state estratte ok a questo punto in base a è in grado di prendere un estrattore di stringhe e di costruire il comparatore il nostro estrattore l'abbiamo scritto in questo modo allora io qui ho scritto soltanto o ma sostanzialmente perché quando c'è un unico parametro io posso mettere sia il tipo che le parentesi ma equivale a scrivere object o e quindi è la notazione più compatta sono sostanzialmente equivalenti quindi il nostro estrattore cosa fa? riceve un oggetto fa il cast a stringa chiama il metodo get cognome e restituisce sostanzialmente il cognome e quindi l'idea è questo in base a get cognome va a costruire un comparatore sulla base di questo estrattore a questo punto se non ho fatto nessun errore il risultato qui sarà la mia il mio array di string ordinato in base a che cosa? il cognome infatti b n r e v a questo punto vi introduco una nuova notazione che è quella che si chiama metodo reference domanda il metodo estrattore stima come fa a funzionare allora questa è un'interfaccia non è una classe ok quindi è ovvio che non si è implementata in realtà l'estrattore è implementato qua alla riga 100 sostanzialmente ho definito tramite questa lambda una funzione interna anonima che implementa tutto quindi la riga 100 equivale a dire la as anonima anonima ve la chiamo così tutta maiuscola proprio implemente estrattore stringa con questo e qui sostanzialmente ho questo frammento qua e un return vi devo mettere anche un public perché tutti i metodi dell'interfaccia sono pubblici quindi questa lambda quindi questa lambda che troviamo alla riga 100 equivale a questa classe anonima che mettiamo qui sotto anzi c'è un new di quella cosa lì ok so che passare da qui a classe più new di anonima con in più un new anonima fatemela chiamare così lambda anonima così è chiaro che ok man mano che vedrete lambda vi dimenticherete che c'è tutta questa cosa qua dietro e vi verrà più naturale però per il momento fate il passaggio il doppio passaggio da lì fino alla classe interna anonima a questo punto il method reference mi permette di andare a dire che io posso andare a definire un estrattore di stringa chiamiamolo estrattore di cognome uguale a persona due punti due punti get cognome in realtà qui allora ho cambiato il parametro perché altrimenti non mi fa fare la conversione per cui ho tolto il il persona qua qui persona altrimenti c'è una conversione di tipo che non mi viene fatta ok non è cambiato nulla ho cambiato semplicemente il tipo del parametro di questo estrai che è diventato direttamente persona a questo punto questo persona due punti due punti get cognome è esattamente equivalente a scrivere questa lambda anzi fatemelo chiamare underscore metodo reference ok e questa è underscore lambda lambda quindi il get cognome come lambda lo faccio così il get cognome come method reference lo scrivo così ed è sostanzialmente esattamente la stessa cosa a questo punto invece di fare quello io posso scrivere ed il significato è esattamente lo stesso get cognome non scritto con la lambda ma con il method reference o se vogliamo evitare di passare dalla variabile intermedia quindi in modo più compatto faccio un array sort di in base a persona due punti get cognome ok vi tolgo la stampa sotto tanto abbiamo già visto come che funziona quindi vedete che questo tipo di scrittura è estremamente compatto non devo andare a scrivermi il comparatore non devo andare a scrivermi nulla uso il metodo in base a gli passo il method reference oppure gli passo la lambda e il risultato è un comparatore che confronta in base al cognome allora attenzione la definizione di queste funzioni è un qualcosa che voi ragionevolmente non farete molto spesso però questa riga che è evidenziata qua che vi permette di scrivere un ordinamento si lo utilizzerete a questo punto dimentichiamoci il metodo in base a che io vi ho scritto semplicemente per farvi capire come funziona ma in pratica si usano i metodi di comparator quindi non utilizzo rovescio ma utilizzo reversed non utilizzo il metodo non utilizzo il metodo quello che abbiamo definito qui sotto che è decrescente ma bensì utilizzo compare tor punto reverse order non utilizzo il metodo in base a ma utilizzo comparator punto comparing e qui gli passo persona due punti get cognome di più se io voglio fare un ordinamento in base al cognome e poi se non è sufficiente anche in base al nome posso fare compare to puto compare in persona e poi punto then comparing persona due punti due punti get nome ok persona get nome non l'ho non l'ho messo però mi costa poco andare a mettere qua un string get nome return nome ok quindi così è come si scrivono le gli ordinamenti sfruttando l'interfaccia comparator i metodi statici e i default definiti dentro questo dentro questa interfaccia e sfruttando sostanzialmente i meccanismi di base che ci sono forniti da dal metodo reference e dalle lambda di più se io metto se ho un import java punto utile punto usate import static java punto utile punto com pareto punto asterisco quindi se ho questo import qua e ve lo metto così vediamo come funziona ovvero faccio l'import di tutti i metodi statici che sono definiti dentro la classe compareto queste stesse istruzioni le posso scrivere come sostanzialmente reverse order comparing e comparing ok quindi in pratica questi metodi che io vi ho scritto ve li ho farti vedere per farvi capire come funzionano come possiamo andare a sfruttare se serve del lambda function delle interfacce funzionali a volte magari vi serve ma nella pratica se dovete fare un ordinamento tutto quello che dovete scrivere è quello che vedete qui ok tolgo questa parte qua ok questo è quello che voi utilizzerete l'importante però è capire come funzionano perché altrimenti non 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 riuscite a utilizzarli nella maniera corretta il metodo compiring di comparator funziona sostanzialmente come il metodo in base a che abbiamo scritto noi quindi riceve un riferimento a un oggetto di tipo estrattore e quell'oggetto sostanzialmente viene utilizzato per estrarre un valore e poi fare il confronto in base a quel valore ok io qui vi ho utilizzato nella versione compatta i metodo reference questo metodo reference quindi quando ho classe due punti due punti nome del metodo qui fa il ruolo di estrattore ovviamente lo posso scrivere perché metodo reference e lambda function sono sostanzialmente analoghi persona p freccia p punto get cognome ok scusate manca una tonda qua ok quindi queste due scritture sono sostanzialmente analoghe la lambda la il metodo reference che è questo è sostanzialmente analogo alla lambda che abbiamo scritto sotto ok di fatto il compilatore prende il metodo reference e lo trasforma sostanzialmente in una lambda ok quindi questo metodo reference o questa lambda hanno il ruolo sostanzialmente che aveva il nostro estrattore qua sopra ok questo estrattore qua e quindi sono di un'interfaccia poi vedremo più avanti che è legata o è simile a quella di estrattore string quindi a questo punto l'idea è tutte le volte che voi avete necessità di andare a fare un ordinamento quello che potete fare è utilizzare questi meccanismi per andare a costruire i vostri comparatori invece di andare a scrivere il comparatore per esteso ok vi faccio vedere la differenza ve lo riporto qui sotto ok questo comparing e then comparing diciamo quest'ultimo equivale a tutta questa cosa qui ok questo è in realtà era inverso noi lo facciamo diretto quale delle due è più compatta quale scrittura delle due è più compatta e quale è più comprensibile ok mi pare che la risposta sia ovvia quindi il consiglio ovviamente è quello di utilizzare questi metodi dell'interfaccia comparator per andare a costruirvi i vostri comparatori potete andare a utilizzare ovviamente il reverse order soltanto se la classe di base cioè persona in questo caso definisce un proprio ordinamento naturale ovvero implementa l'interfaccia comparable e di conseguenza fornisce un'implementazione per il metodo compare to il metodo then comparing sostanzialmente ha parità di confronto di quello che viene prima quindi se il risultato di comparing è zero ovvero ho cognomi uguali allora mi fa un ulteriore confronto sui nomi che confronta prima i cognomi se sono diversi finito se sono uguali allora fa il confronto fra i cognomi ovviamente io posso andare qui a concatenali quindi fare comparing età matricola so altezza eccetera posso andare a concatenare con quel then comparing tutta una serie di condizioni di ordinamento di condizioni Allora, come mi comporto nel method reference nel caso in cui i parametri siano più di uno? Beh, in questo caso il parametro di getCognome era nessuno. Dipende dalla interfaccia che tu vuoi implementare. Ok, l'interfaccia in questo caso prevede che ci sia un oggetto e basta, cioè l'oggetto da cui io voglio estrarre il valore. Posso avere un metodo con più parametri e quindi i parametri vengono poi passati. Non vi sto adesso a approfondire le varie tipologie di method reference. Sono sulle slide e saranno nella lezione che vi pubblico più tardi, in cui vado a prenderli uno per volta. Domanda, se avessimo un vettore e due Mario Rossi, come si comporta l'algoritmo? Allora, no, non ha problemi l'algoritmo se abbiamo due persone omonime, semplicemente perché se voi fate un ordinamento di qualunque cosa dove ci sono due valori uguali, quelli restano in una posizione che è quella di partenza. Se vi ricordate la differenza tra algoritmi di ordinamento stabili e non, in un algoritmo di ordinamento stabile, elementi che hanno lo stesso valore restano nella stessa posizione relativa, in quelli non stabili invece potrebbero cambiare. L'algoritmo di ordinamento del sort è un algoritmo stabile, e quindi sostanzialmente se ho due Mario Rossi resteranno nella stessa posizione relativa all'interno dell'array, ovviamente ordinati. Domanda, cosa vuol dire comparator minore, punto interrogativo, super persone, eccetera? Allora, quando vi ho detto che le interfacce comparator e comparable sostanzialmente erano analoghe a queste che vedete qua, vi ho raccontato un po' una bugia, nel senso che le interfacce non sono definite in quel modo. Ok? O meglio, erano definite in quel modo fino a Java 1.4. Dopodiché le interfacce comparator e comparable si sono evolute e sono diventate le interfacce generiche. Che cos'è un'interfaccia generica, cos'è una classe generica, cos'è un metodo generico? Saranno l'oggetto delle lezioni della settimana prossima. Ok? Allora, quindi l'obiettivo di oggi era farvi vedere come possiamo utilizzare i meccanismi di implementazione delle interfacce lambda, che abbiamo già visto la volta scorsa, i method reference che abbiamo visto adesso, che sono semplicemente una variazione sintattica, un pochettino più compatta delle lambda, che permettono di andare a implementare delle interfacce funzionali. Abbiamo visto come queste interfacce funzionali possono essere molto utili per andare a scrivere degli oggetti che permettono di andare a parametrizzare, nel nostro caso, l'ordinamento. Quindi, l'idea è, quando voi dovete andare a costruire un comparatore, di solito non scrivete tutto quello che vedete qui sotto, non andate a scrivere il comparatore esplicitamente, ma bensì andate a utilizzare queste funzioni che sono già definite dentro il comparetto, che vi permettono di fare un confronto in base a il valore restito da un metodo, oppure prendere l'ordinamento naturale e invertirlo, oppure prendere un qualche comparatore che già esiste e invertirlo. Quindi, l'idea è di utilizzare praticamente i metodi fondamentali, ce ne sono anche altri, potete poi andare a vedere la documentazione, ma i metodi fondamentali sono per l'appunto reverse order che mi dà l'ordinamento inverso, reverse che mi dà l'ordinamento inverso rispetto a un comparatore che già esiste, comparing che sostanzialmente aspetta un oggetto di estrattore, un oggetto estrattore, e then comparing che può essere applicato a un comparatore già esistente aggiungendo un'ulteriore specificazione. Quindi, i quattro metodi che voi utilizzerete per andare a fare degli ordinamenti sono per l'appunto questi quattro. Tutto il resto che abbiamo visto oggi era un esempio di come sono definiti questi metodi e più in generale come posso utilizzare le interfacce, in particolare le interfacce funzionali, in maniera da costruire degli oggetti che mi permettono una scrittura molto, molto compatta. Quindi, nel vostro uso quotidiano voi utilizzate questi quattro metodi, più pochi altri, per fare un ordinamento. In pratica è bene che capiate come funzionano questi metodi andando a vedere le funzioni che abbiamo scritto oggi che sono sostanzialmente una versione un po' semplificata di questi metodi che sono forniti dentro la classe compareto. Quindi, se volete, vi posso estrarre questo frammento di codice per dirvi quali sono i modi standard di fare un ordinamento di un certo tipo piuttosto che di un altro. Ok? No. E' quello che vedete qui. Abbiamo parlato della classe object un po' di tempo fa. Abbiamo visto alcuni metodi, quelli principali, il metodo toString, che serve per convertire in una stringa che normalmente deve essere ridefinito, il metodo equals, che serve per andare a fare un confronto tra oggetti. Abbiamo accennato al metodo hashCode, che è pensato per andare a estrarre un codice di hash, che quindi potrà essere utilizzato poi in tabelle di hash. c'era anche un altro metodo che si chiamava clone, che è un metodo che è pensato per andare a prendere un oggetto e duplicarlo. vi apro una nuova classe con un main, per andare a vedere come possiamo andare a utilizzare il nostro metodo clone. Quindi immaginiamo di avere una stringa voglio avere un clone. Quindi posso dire s.clone. Voi direte, in realtà, clone è un... è un... scusate... cast a string. clone è un metodo definito in object che però qui non è visibile. Perché, se ricordate, clone all'interno di object non era pubblico. Allora, cosa serve il metodo clone lì dentro? Serve sostanzialmente per permettere di fare la duplicazione di un oggetto. Il problema è che non sempre duplicare un oggetto andando a fare una copia passo passo di tutti i campi è un qualcosa che va bene. Se pensate alle stringhe, come sono fatte, all'interno di una stringa c'è un riferimento a un array di caratteri che contiene i caratteri della nostra stringa. se io copio brutalmente il puntatore all'array di caratteri quando devo rilasciare la memoria di una stringa rischio di rilasciare la memoria anche di un'altra stringa che punta lo stesso. Quindi, per questo motivo non posso andare a fare una duplicazione delle stringhe così, tranquillamente, perché la copia pari pari di tutti gli attributi mi va a impattare su diciamo i vincoli di integrità di quelli che sono gli oggetti. ok? Quindi, questo non è sicuro e non si può fare ok? Per cui questo non funziona. Se vado a prendere un integer i uguale 42 posso scrivere integer j uguale cast a integer di i punto clone e anche qui non funziona. Allora, che cos'è che posso andare a clonare? Posso andare a clonare degli oggetti che permettano di fare una copia senza nessun impatto su quella che è l'integrità delle classi copiando attributo per attributo. quindi se io vado a prendere la mia classe persona di prima vi riprendo la classe persona che avevamo scritto qua su nell'esempio precedente in questo caso se io copio i due campi che sono cognome e nome da uno all'altro da un oggetto vecchio a uno nuovo va tutto bene ok? Se volessi effettivamente andare a creare io a mano un 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 metodo di copia farei esattamente quello quindi se ho una persona p uguale new persona mario rossi vorrei poter andare a duplicare questa persona uguale p.clone ovviamente clone restituisce un 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 object quindi devo fare un cast a persona non lo posso fare come faccio a permettere la copia di una classe che invece secondo me può essere tranquillamente copiata senza problemi lo posso fare andando a implementare un'interfaccia che si chiama clonable che in questo caso non mi funziona domanda le stringhe in q punteranno ad aree di memoria diverse rispetto a quelle di p no sostanzialmente sì allora p e q puntano a due aree diverse quindi la clonazione consiste in andare a duplicare la memoria allora probabilmente è cambiato qualcosa perché con java 1.8 funzionava quindi public override object clone return super ronde ronde ok a questo punto finalmente ci siamo allora l'interfaccia clonable attenzione l'interfaccia non si chiama clonable ma si chiama cloneable ok allora che cosa ho fatto clone nella classe object sostanzialmente è protetto quindi io cosa ho fatto ho allargato la visibilità del metodo clone andando a richiamare sostanzialmente del metodo clone già definito nella classe base ok e quindi questo mi fa una duplicazione dell'oggetto allora c'è da qualche parte un errore sostanzialmente non mi fa nulla stampo P e Q altrimenti ok vedete Rossi Mario e Rossi Mario sono esattamente la copia l'uno dell'altro com'è possibile che il metodo clone funzioni il metodo clone sostanzialmente va a prendere tutti gli attributi e li copia l'uno sull'altro e se questo non fosse corretto sostanzialmente io andando a implementare l'interfaccia clonable ho garantito al mio al metodo clone della classe di base object che questa copia è permessa se tolgo questa implementazione e rieseggo tutto ottengo clone not supported nel senso che la classe la classe di base object mi permette di fare un'operazione di clone quindi con copia campo per campo soltanto se la mia classe derivata implementa clonable sostanzialmente clonable che è un'interfaccia vuota serve serve per andare a indicare che quella particolare classe può essere clonata facendo una copia campo per campo questo è quello che nei vari tipi di uso si chiama class flagging per cui io posso andare a dire se this instance of clonable allora faccio l'operazione di clone l'eccezione che abbiamo generato sostanzialmente mi dice che non posso fare l'operazione di clone per una classe che non implementi esplicitamente l'interfaccia clonable quindi non abbia questo flag di classe duplicabile domanda ma se in persona ho due stringhe perché è permesso su persona e non sulle stringhe beh perché sostanzialmente quando io faccio il clone di una persona non faccio il clone delle stringhe faccio il clone dei due riferimenti a stringhe quindi ho due persone i cui attributi nome e cognome puntano entrambi esattamente alla stessa coppia di stringhe per quanto riguarda le stringhe abbiamo detto che hanno una gestione della memoria interna un po' più complicata e quindi se io avessi due oggetti stringa i cui attributi interni puntano agli stessi attributi la gestione della memoria non sarebbe più corretta e quindi questo non è possibile ok direi che con questo abbiamo finito un po' la nostra panoramica sui vari modi di andare a utilizzare le interfacce ti pubblico una lezione di riepilogo con tutti questi aspetti facendo riferimento alle slide e qualche dettaglio in più sulle interfacce funzionali sulle funzioni lambda sui metodi reference che oggi abbiamo visto in termini pratici di utilizzo e dalla settimana prossima ci diamo per assodata questa parte sull'ereditarietà e quindi iniziamo a vedere nuovi aspetti che sono sostanzialmente le eccezioni e i metodi generici metodi classi e interfacce generici vi pubblico questo codice con quel diciamo metodo di sintesi sull'ordinamento così ce l'avete come come riferimento e direi che con questo per oggi possiamo chiudere qui